Dov'è Franco Fritz & Balden? Con che diritto lo tenete qui dentro? Quel ragazzo non farebbe male ad una mosca, dovete rilasciarlo immediatamente. Dov'è? Si può sapere. Molte grazie, avvocato. Ah, Franco, come stai? Ti ho portato qualcosa da mangiare, sono così preoccupata. Stai bene? Sì. Guarda, qui c'è del latte, biscotti, il cioccolato fondente. Hai freddo? No, sto bene. Sono così preoccupata. Lo sai perché ti tengono qui? Io l'ho capito. Vogliono che tu parli, ti vogliono stancare e fatti confessare quello che non hai fatto. Tu parla solo con Mattias vicino, va bene? Sì. Ma dov'è Mattias? È andato a portare Maya a casa, ora torna. Ascolta bene, lo sai a che cosa hai diritto? Ad una telefonata e tutto quello che dirai potrà essere usato contro di... Ma, Flore, va tutto bene, non preoccuparti, stai tranquillo. Come, tutto bene, stai scherzando? Mi prendi in giro? Va tutto male, ti hanno accusato di una cosa terribile. È vero. Insomma, che aspettate a liberarlo? Perché non gli fate un paio di domande e me lo ridate? Gli dovrete chiedere scusa, vedrete. Scusi, lei ascolta quando le parlo? Ehi, mi appellerò alla Suprema Corte di Giustizia, parlerò con Greenpeace e se servirà farò una denuncia e farò vedere i sorci verdi a tutti. Lola, calmati, calmati. Solo voi con un tibio abrazo vas marcando el paso de este juego de a dos. La razón no importa demasiado si estás a mi lado. Non posso credere a quello che è appena successo. Flore, hai provato lo stesso anche tu. No. Amore mio, ti amo, mi ha troppo. No, 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 Franco, aspetta, aspetta. Ti prego. No, va bene. Non ti spaventare, no. Se vuoi non ti bacio più. No, Franco. Franco, stai bene? Che ci hanno detto? Che ti hanno detto? Eh? È successo qualcosa a voi due? No, è... Fritz & Walden, Franco. Franco Fritz & Walden, vero? Sì, sì, sono io. Come fa? Buonasera, io sono il suo... E lei? No, 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 io sono... Dico, sono il tutore, il fratello, è il tutore, sì. Io sono Franco. Il fratello. Bene, lei mi aspetti qui, fra poco può entrare. Lei venga con me, prendiamo una dichiarazione. Sì. Beh, tranquillo, vai. Stai tranquillo, non lo arrestano, perché non permetterò che lo facciano. Flora, Flora. Che cos'hai? No, mi angoscia che sia... Bacio. E dentro, e questo mi fa stare... Mare. Va bene. Vado da Franco. Virgo. Grazie.